C'è un progetto molto interessante, molto particolare, nato nella zona dell'Alto Sebino, si chiama HPVip Movie Life e ne parliamo con Silvia Centelleghe, che è presidente dell'associazione Tempo Relativo. Che cos'è questo progetto? Allora, HPVip Movie Life è un progetto sul ritardo mentale ed ha come protagonisti un gruppo di ragazzi e di ragazze del territorio. È un progetto ideato e realizzato dal centro Madil di Lovere, che è un centro psicopedagogico educativo e di formazione, e ha all'interno un'equip di psicologi, psicoterapeuti, educatori, neuropsichiatri e pedagogisti, che hanno sensibilizzato questo tema che a noi sta veramente molto a cuore. Uno dei protagonisti principali del progetto è Giorgio, che è Giorgio, ma ha detto che si vuole far chiamare Giorgio, e siamo qui per ringraziare tutti i comuni che hanno patrocinato questo progetto, sia dell'Alto Sebino che della Valcamonica, tutte le società che hanno contribuito a finanziare questo progetto, e li ringraziamo davvero con il cuore e chiediamo anche altre aziende o società del territorio se vogliono comunque aiutarci per la chiusura definitiva della realizzazione di questo progetto. In che cosa consiste questo progetto? Allora, in cosa consiste HPVip Movie Life? È dar vita al nome, cioè HPVip, che è la potenza dei motori, ed è dar forza e utilizzare la potenza di Giorgio, ad esempio, che è uno, che adesso lo sentite tranquillo, ma poi gli lasciamo parola, è uno che ama tantissimo mettersi in mostra... Giorgio, scusami, Giorgio, va bene, adesso dirò Giorgio. Giorgio ama mettersi in mostra a giocare, fare avventure, andare a concerti, lui vorrebbe stare sempre nel mondo a fare cose, tant'è che sua mamma, che ringrazio, è sempre trafelatissima, perché deve accompagnarlo da una parte all'altra. L'idea è, quindi, HPVip, valorizzare la potenza, VIP perché per noi rappresentano veramente... Il progetto vuole lavorare con le persone veramente importanti per noi e in questo caso, questo progetto nasce proprio dall'incontro con Giorgio, dà valore ai sogni di Giorgio. Movie Life perché l'idea del progetto è fare delle avventure legate al tempo libero e al benessere, che non sono la gita, ma è proprio fare qualcosa che il gruppo decide autonomamente, guidato da una figura educativa, decide che cosa fare, esattamente come un gruppo di amici che si ritrova e non fa l'attività proposta dall'educatore, ma fa l'attività, l'esperienza che il gruppo crea e desidera fare. Quindi è dare valore veramente al potere personale. Mi piacerebbe un po' fare tipo... Mi piacerebbe vedere il lago di Zeo da qui sopra, perché c'è quei fiori lì, sembra un posto bello per un matrimonio. Se potessi scegliere tu cosa fare, cosa faresti? Andiamo a Milano a vedere la tomba di Enzo Giannacci, Vincenzo Giannacci, lo stimo tanto. Il progetto HPVip Movie Life dura 12 mesi, perché è necessario avere un'esperienza a lungo termine per far sì che la parte educativa abbia, come dire, dei risultati positivi a cascata sia su questi ragazzi e queste ragazze che sulle famiglie. Questo progetto si svolge come base di partenza da Lovere in questa casetta che noi abbiamo chiamato Casetta di Madille, che diventa un po' il covo di questo progetto, ma poi ha delle diramazioni sia sul territorio che su tutta la regione. Grazie a tutti.